Cari amici e amiche di Euromusica, eccoci qua per una nostra nuova intervista e come dire, oggi chiudiamo un cerchio iniziato quasi dieci anni fa, perché dieci anni fa Euromusica scriveva del primo album di Marlò che si chiamava Intro, credo che poi dopo lo faremo anche vedere e oggi la ritroviamo per il nuovo album Il Tempo delle Cose, ciao Marlò. Ciao, ciao Beppe, ciao Emanuele, grazie. Allora, intanto io direi Beppe se fallo vedere magari noi dieci anni fa questo articolo perché insomma ne parlavamo a microfoni spenti, siamo stati fra i primi poi a raccontare del tuo debutto, del tuo percorso musicale. Sì esatto, infatti dicevo è una cosa che mi ha colpito molto perché a parte che mi sembra ieri, in realtà ieri non è, però è stata una delle prime volte che ho, in realtà adesso non vorrei dire una cosa, ma tu hai scritto di me ancora prima del disco, cioè tu mi hai citata in qualcosa legato anche ai concorsi, quindi ad un certo punto io ti ho, intercettato molto prima e quindi diciamo che è sulla terra il primo singolo, ah giusto? Sì sì, sì sì, quindi per me è stata una cosa molto bella quando mi avete scritto, insomma sono molto contenta, grazie. Beppe a te. Sì adesso a proposito di tempo e passa, sono passati dieci anni da quella prima volta e è proprio il tempo il protagonista di questo tuo ultimo album, no? Ce ne vuoi parlare un po'? Sì, allora questo è, insomma il disco si chiama Il Tempo delle Cose e anzi stavo per dire non è un concept album, però ho nelle orecchie il mio produttore artistico Gian Piero Mariani che sono tre giorni che mi dice perché dici sempre che non è un concept album? Perché è vero, nel senso che non è nato con l'idea di scrivere ehm un disco sul tempo, quindi non è stato fatto quel lavoro lì, però ad un certo punto casualità o forse perché evidentemente era talmente forte questa cosa, tutti i brani che ci sono all'interno da quelli che ho scritto io ma anche quelli che mi sono arrivati eh alla fine avevano al centro il tempo e quindi è un po' un filo, è il filo conduttore di questo disco, l'ho sviscerato abbastanza, quindi il tempo investito il tempo perso, il tempo che ci vuole perché le cose maturino, quindi insomma io sono contenta ogni volta che me lo sto ascoltando poi in questo periodo, non perché io sia lì ad ascoltare le mie cose però magari ecco faccio un'intervista, faccio qualcosa, ci sono delle cose che devo ancora imparare rispetto al tempo e me ne accorgo proprio ehm trovandomi a contatto con il mio disco, quindi eh evidentemente per me deve fare ancora un po'. No, la la cosa che a me ha piaciuto ehm diciamo ha colpito poi io ovviamente ti conosco, ascolto le tue cose, quindi diciamo non sono rimasto sorpreso, però eh sai in un tempo in cui eh si consuma un altro tipo di musica, una musica che va come dire di di facile consumo un po' chewing gum, no? Usa e getta, questo è un brano, un album da ascoltare molto lentamente con canzoni con sonorità diverse che non è facile anche poi di trovare nelle radio, penso anche al canto autorato italiano, no? Artisti come Diodato eh che magari sono quelli che più si avvicinano, no? quel simbolo di sonorità e comunque è una sonorità ancora diversa. Eh guarda sì nel senso che poi non so se eh quando si tenta di giustamente di di capire un po' dove si trova un artista quindi di di dire ok è un po' più simile a questo lo inserirei in non lo so nel canto autorato o nel nel semplicemente nel pop, nel disco, insomma quello che sia ehm è sempre un po' complesso io non so mai non so mai bene dove collocarmi direi una sorta di pop d'autore ci ci provo diciamo una cosa del genere però la cosa di cui sono contenta è che rispetto anche rispetto al mio primo disco ehm e le cose che ci sono qui dentro sono quelle che mi piacciono quindi per quanto io ehm anche nel primo disco ero convinta di aver fatto questo ragionamento qui e l'ho fatto però ero più giovane quindi in realtà la verità è che un pochino ho sentito l'influenza del dover stare un po' più al passo con i tempi per quello che comunque insomma sono riuscita a fare. Qua invece questa cosa non c'è minimamente quindi semplicemente quello che mi piace sono i suoni che mi piacciono quelli che riesco poi a a riprodurre anche dal vivo quindi quelli che più facilmente mi rispecchiano perché per esempio quel primo disco dal vivo per me è stato molto complesso poi perché rendere tutta quella roba lì devi essere quella roba lì e io non ero propriamente molto in linea con quello quindi sono sono contenta mi piace non non è stato fatto ecco un lavoro pensando ai a dove deve andare a chi lo deve ascoltare ma eh io ho pensato ho cercato di fare una cosa che se l'ascolto io sono soddisfatta e non mi pento di quello che ho fatto beh ecco e in questo in questo disco in questo lavoro si sente tutto quello e ti piace e si sente e ci sei tu veramente e e l'artista e e crea qualcosa per il per il pubblico e per per se stessa e si sente anche un forte richiamo di una zona particolare della tua terra no non ho la nona traccia di questo disco è una una rivisitazione possiamo dire così di un brano popolare sì esatto quello diciamo che tutte le fontanelle è un brano della tradizione popolare abruzzese e il primo brano a cui ho lavorato dopo appunto sette anni dal dal primo disco ero ero completamente ferma dal punto di vista della della creazione proprio e ho incontrato chiara raggi e musica di seta che sono rispettivamente la la mia produttrice e l'etichetta che chiara ha fondato che è proprio specifica per la musica d'autrice e chiara mi ha detto per riprendere un po le fila di un discorso non possiamo ripartire subito da un cosa così metto quindi cosa vorresti fare io avevo questa cover in cantiere che era nata un po nella mia camera durante la pandemia perché sono rimasta a milano anche durante la pandemia e quindi abbiamo cominciato a lavorarci sempre con giampiero e ad un certo punto durante l'estate mentre stavamo registrando ho ascoltato setac dal vivo in un concerto e mi sono accorta che il tentativo che io stavo facendo su quel brano in realtà lui lo incarnava totalmente con il suo progetto quindi l'utilizzo del dialetto per per quella che è la parte emotiva del dialetto riportandolo a delle sonorità che sono quelle che poi ognuno sente più più sue più attuali sia di attualità si vuole parlare e quindi abbiamo insomma io ho chiesto che ci potesse essere anche lui lui ci ha detto di sì e quindi poi è nata questa collaborazione che per me sia una cosa molto bella artisticamente parlando ma mi ha permesso di mettere dentro questo disco qualcosa della mia terra e soprattutto cioè anzi soprattutto in questo momento che sono tornata a vivere qua quindi mi sembrava un po il punto d'inizio giusto per riprendere un discorso vedi il cerchio continuo a chiudersi perché noi chiara raggi l'abbiamo intervistata un po di tempo fa in occasione per l'uscita del suo disco in esperanto sì come no è vero giusto giusto ma vedi mazzesco vedi che le cose avevo adotto e parlato dall'altro del bel dialetto no io personal io a mio personalmente amo molto le produzioni in dialetto perché penso che come dire sia una una nicchia musicale troppo poco considerata anche su anche al pa sul palco del festival di serrano abbiamo avuto canzoni in calabrese abbiamo avuto la sardegna abbiamo avuto napoli però per esempio il diretta bruxese non si sente così tanto noi abbiamo avuto come dire abbiamo avuto il piacere avuto il piacere anche di ascoltare dal vivo il dialetto calurese con daniela pressa che è venuta anche dalle mie parti che fa delle cose straordinarie in mischiando il dialetto elettronico ora il dialetto abruzzese non si sente tanto è pure una terra come dire di grande cultura di grande eh di grande tradizione no di con tante influenze dentro guarda eh la la questione del dialetto in abruzzo per questo mi ha colpito molto il lavoro che sta facendo sedac perché io per prima sono abituata ad ascoltare il mio dialetto sempre legato a contesti ehm ironici goliardici o o comunque sempre poco poco seri cioè il dialetto da noi è sempre preso come una cosa che fa ridere quindi anch'io la prima volta che mi sono trovata ad ascoltare eh setac dal vivo ho pensato cioè questa è la mia lingua e prima di entrare nel nel mood di quello che stavo ascoltando ho passato dieci minuti di shock perché ho detto com'è possibile che si possa cantare nella mia lingua che per me secondo me era impossibile facendola sembrare vera credibile ehm ed effettivamente nella insomma quello che sta facendo setac lo fa solo setac in abruzzo quindi effettivamente non c'è una tradizione della canzone abruzzese legata al al canto autorato ehm c'è la musica popolare abruzzese che comunque non è una di quelle più conosciute e non abbiamo nemmeno tantissime melodie che magari sono diventate famose o o altro quindi è è un peccato perché effettivamente come tutti i dialetti ha dentro qualcosa che non ha la lingua italiana cioè c'è tutto l'aspetto ancestrale emotivo ehm comunicativo che è inutile ci sono cose che dette in dialetto funzionano di più che dette in italiano esattamente esattamente e questo solo che effettivamente è una cosa che qua si fa si fa molto poco quindi ehm io non sono non mi vedo in quella veste lì però per esempio ehm mi è piaciuto molto fare fare quel duetto mi sono sono molto contenta che ci sia comunque un accenno a a quell'aspetto lì ecco torniamo sul discorso del del tempo perché il tempo è come abbiamo detto protagonista di questo tuo lavoro ma eh siamo adesso in un periodo storico in cui Emanuele ha detto ha parlato di una musica eh diversa di una fruizione anche diversa del della musica ma eh siamo in un periodo storico in cui eh si tende a fare tutto più velocemente possibile e la soglia dell'attenzione molto bassa e in cui spesso eh la musica viene ridotta a quindici secondi e andiamo a condividere nelle nelle storie sui social o quelle quelle brevi clip dopo i secondi e eh letteralmente sono alla portata di tutti tu invece fai un lavoro e l'esatto opposto fai qualcosa e sono dei brani di durata in realtà neanche troppo lunga però eh rispetto ai brani da un minuto e ormai ascoltiamo eh ci porti qualcosa e è una sorta di salto indietro nel tempo e però fa sempre piacere riascoltare perché diciamo eh permette all'ascoltatore di riabituarsi a una a una fruizione è totalmente diversa da quella di oggi una fruizione più diciamo eh più alma in cui diciamo la musica torna a essere al centro sì eh guarda io ho fatto proprio penso un un ritorno alla lentezza in generale cioè io dopo tredici anni a Milano sono tornata a vivere a pesca di nasce intanto immaginare il salto proprio eh ecco dal punto di vista della del tempo dello spazio incredibile e probabilmente questa necessità era era proprio una necessità non solo di vita ma anche di ehm di musica quindi ehm io non non mi sono inventata niente in questo disco non ho neanche la la velleità di pensare a un certo punto di potermi inventare chissà cosa io penso che nella musica sia stato fatto tantissimo certo si può sempre fare di più però poi la cosa che veramente non passa mai di moda cioè quello che secondo me è qualcosa di evergreen eh è quanto la persona che tu vedi sul palco la persona che tu ascolti è poi coerente ehm con la sua immagine cioè la musica che ascolto e la persona che vedo sono la stessa cosa per quanto questo possa sembrare banale io ultimamente non non lo riscontro moltissimo quindi diciamo che me lo sono posta come eh come obiettivo principale se poi questo si traduce eh nel fare la musica che faccio mi va bene nel senso che eh ovviamente mi rendo conto che quello che scrivo non ha non è adatto a certi canali ma probabilmente io per prima non sono adatta a certi canali cioè eh quelle sono partite diverse sono è un gioco diverso che per cui io probabilmente non ho nemmeno il fisico cioè proprio intendo non ho la struttura psico emotiva per affrontare quel tipo di percorso lì quindi in realtà la mia musica spero che mi racconti in un modo talmente chiaro da aprirmi le strade che sono eh adatte a me eh e in cui io riesca eh a raccontarmi bene perché poi ehm come dire qualsiasi in qualsiasi contesto tu puoi anche essere bravissimo ma se sei fuori contesto non vieni né apprezzato tu e nemmeno le persone riescono a godersi magari una serata quindi io probabilmente con la mia musica non potrò mai stare con questa musica nello specifico non lo so ad un mega concerto dove la gente giustamente va lì per ballare e pogare cioè non è il mio non succederà mai però se con questo disco mi metti in un locale con le luci blu e le persone sedute probabilmente siamo tutti felici quindi eh il mio obiettivo è quello cioè che questo disco mi racconti talmente bene da eh farmi stare dove sto bene allora siamo quasi in conclusione abbiamo tempo ancora per un paio di domande allora la prima la prima mi aggancio a quella che a quello che tu hai detto perché hai detto questo è un disco che non è adatto a certi contesti però c'è un contesto io e Beppe conosciamo bene ormai frequentiamo da qualche anno eh che invece dove invece secondo me canzoni come queste stanno bene ed è musicoltura tu sei passata un po' di tempo fa la musicoltura appunto facevi tuo riferimento eh all'inizio eh è vero che adesso a che adesso musicoltura si sta un pochino spostando verso il mainstream ma devo dire eh sono nato perché ha sfornato insomma gli ultimi sono i santi francesi ma insomma poi altri eh però sono novità come queste io ne sento ancora musicoltura hai in mente di riprovare? Allora guarda non io mi sono fermata un po' con i concorsi nel duemila tra il duemila quattordici e il duemila sedici tutti quelli che ho potuto fare li ho fatti ehm se ti dove se oggi dovessi partecipare ad un concorso sicuramente musicoltura è tra quelli a cui parteciperei ti devo dire che io non ce l'ho la certezza che questa musica ehm ci arriverebbe questa volta io penso che poi i concorsi che sono secondo me importantissimi perché se tu non hai degli agganci sono eh un modo buono per farsi conoscere per confrontarsi con gli altri ehm comunque come dire c'è sempre bisogno che si mettano insieme tutta una serie di condizioni magari il pezzo giusto al momento giusto nell'anno giusto cioè non so se questa musica sarebbe mh cioè se in gara avrebbe una una chance però sicuramente se se dovessi provare un concorso musicoltura è tra quelli sì comunque mi sa che adesso sono già fuori tempo perché oggi mi sa che sono usciti proprio in queste ore i partecipanti sì esatto quindi quest'anno è andata vabbè sarà per 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 l'anno prossimo e tra tra due anni a parte a parte gli sersi e c'è una frase che mi ha colpito particolarmente e Emanuele pure ricorda molto bene e viene da un palco in cui siamo abituati a tutt'altro genere di musica e un certo signor salvador sobral disse dopo aver vinto l'Eurovision la musica non è soltanto fuochi d'artificio e mi sa e tu ti ci ritrovi molto sì io moltissimo io mi ritrovo moltissimo nel senso che ehm è vero la musica non è solo fuochi d'artificio anche perché ci dovremmo accordare un po' su quello che è il concetto di fuochi d'artificio nel senso che sì quello che comune che diciamo socialmente è riconosciuto come fuoco d'artificio assolutamente sì cioè per me la musica non è solo fuochi d'artificio però per quanto mi riguarda anche solo riuscire a salire sul palco e con un filo di voce e una luce che cambia riuscire a portare le persone da un'altra parte per me io quello lo vivo come un fuoco d'artificio cioè una per me ha comunque l'effetto di di riportarmi da un'altra parte quindi io io mi auguro semplicemente che cambino un po' i parametri ma anzi non tanto che cambino perché va bene tutto cioè ma che ci sia più spazio per tutto ecco perché secondo me il limite oggi è solo questo che c'è una direzione sola e deve essere quella invece no quella questa quell'altra perché le persone sono tante quindi se piace a me un certo tipo di musica ci sarà qualcun altro a cui piace e quindi i contesti speriamo che ce ne siano sempre di più sempre più vari. Senti io concluderei con una domanda originalissima che non fa nessuno perché insomma tu abbiamo detto fai questo genere di musica molto slow no? Dovessi tu guardare a un'ispirazione musicale a chi guardi? Io da sempre ho Sarah McLachlan come come donna che scrive come cantautrice per me lei è meravigliosa uno dei suoi brani è stato Angel per me è stato un riferimento da sempre come ma come modo cioè il fatto che lei ecco si sieda al pianoforte con un pezzo così ecco slow eppure riesca a tenere tutti i catturati quindi ti direi Sarah McLachlan come ti direi Niccolò Fabi in Italia Cristina Donà però io non ho per esempio un cantante di riferimento ci sono cantanti mi piace moltissimo anche Paolo Nutini che non è magari per me cioè io non faccio la musica che fa Paolo Nutini però tutti questi tutti insomma è un elemento come dire di grande spessore sì sì però tutti questi artisti per me al di là del loro percorso hanno in comune la capacità ognuno nel suo stile di riuscire a cambiare l'atmosfera per me è quello che deve quello è un artista che diventa per me un riferimento quello che sale sul palco e che inizi con un fuoco d'artificio che inizi nel silenzio più totale quell'artista che riesce a far cambiare l'atmosfera e quindi a portare le persone esattamente dove vuole lui quindi io c'è tutti gli artisti che mi piacciono hanno questo in comune. Beppe a te per la chiusura perché credo che come diceva il grande Enzo D'Ortor a Big Bang ha detto stop giusto? Sì siamo praticamente in conclusione noi ti ringraziamo naturalmente per per essere stata qui con noi per averci concesso questo questa breve errata anche per presentarci questo tuo ultimo lavoro e consiglio a tutti i nostri lettori di di ascoltare anche per e fa bene alle orecchie per ripulirsi le orecchie da tutto il il rumore dal movimento dalla troppa velocità e a volte stare fuori dal tempo non fa mai male quindi eh grazie mille ancora una volta e grazie a voi ti auguriamo tutto il meglio per il futuro grazie grazie mille grazie mille